Il principe Ferri ha avviato sei cause legali sostenendo che la sua sicurezza e privacy sono state ripetutamente violate. La battaglia del principe Ferri con la stampa gli costerà milioni di sterline in spese legali, ha avvertito un esperto di contenzioso. Il duca di Sussex ha intentato una causa contro l'editore di Tessane News of the World, che è stato chiuso, per accuse di raccolta illegale di informazioni. Un giudice ha stabilito giovedì che il reale sarà in grado di perseguire solo una parte del suo caso, respingendo le accuse di pirateria informatica, a causa della mancanza di testimoni, o prove documentali. L'avvocato Paul Britton ha avvertito che la decisione è stata un altro colpo alla battaglia di Ferri, per proteggere la sua privacy. Ma ha anche suggerito che il duca non lascerà che la sentenza gli impedisca di continuare ciò che ritiene ne valga la pena. Parlando con il Daily Express, Britton ha dichiarato, Questo è un altro duro colpo per il principe Ferri nella sua guerra per la privacy contro i tabloin. Il tribunale ha deciso che Ferri non poteva procedere con la sua denuncia riguardante l-hacking telefonico, ma ha consentito alle sue accuse riguardanti l'uso di investigatori privati di passare a un processo, che dovrebbe iniziare nel gennaio 2024. Il contenzioso di Britton e Time Solicitors, ha anche stimato che il caso legale in corso riporterà probabilmente al duca di Sussex milioni di sterline. Ha continuato. Le spese legali coinvolte in questi procedimenti, supereranno probabilmente i milioni di sterline, entro la fine dell'anno. Spesso ho conversazioni con i clienti all'inizio dei procedimenti sui requisiti di finanziamento, e, in molti casi, chiedo loro se ne varrà la pena se le cose non vanno per il verso giusto.